salve amici e amiche purtroppo devo rettificare le voci di corridoio che circolavano qualche giorno fa a proposito della dipartita di lavrov e infatti non è successo del resto come poteva il mondo privarsi delle sue enormi perle di saggezza come si dice questa dichiarazione infatti è sua in occidente puoi parlare quanto vuoi ma in russia le decisioni del nostro presidente non vengono discusse vengono solo eseguite e se il nostro presidente vuole fare una passeggiata a kiev allora i russi devono spianargli la strada per arrivare a kiev e se putin vuole nuotare a odessa allora i russi devono spianargli la strada lì e non importa quanti dei nostri cittadini muoiano per questo quando putin morirà allora giocherete alla democrazia ma ora dobbiamo eseguire le decisioni del nostro zar afferma sergei lavrov ministro degli affari esteri della federazione russa ma come dire no internet è bello perché non dimentica e infatti non tutti in russia la vedono allo stesso modo voglio dire no può capitare in questa snapchat o chat roulette come vogliamo chiamarla ci sono due ufficiali russi che hanno un tantino di visioni differenti l'audio non penso che sia necessario tradurlo e che c'è Ohu'iel, tu che o'u'ielse che? Ja ce, нормально. Sottri. Sottirere? Stirere? Dumbisle lice? Ahu'iel... B***h, извine, che tu che tu racconta, b***h, p***dez. Dabai sottrim p***du. Ohu'iel, Roma, tu ohu'ielse che, b***h. Sas sottrem. Balsche tak ne budem. bene quindi insomma oggi ho voluto iniziare con due video di parte russa proprio due video presi dalle fonti russe così insomma i filorussi la smettono di accusarmi di essere di parte insomma come devo dire più fonti russe di così però in ogni caso prima di parlare degli aggiornamenti del conflitto come sempre vi invito a iscrivervi al canale e a lasciare un mi piace anche a questo video qui sotto troverete tutti i pulsantini di youtube per supportarmi ora parlando invece della situazione al fronte l'avanzata inarrestabile russa a seguito della provocazione ucraina come l'ha chiamata Putin nella regione di Kursk questo slancio russo nell'area del Donbass dove non si sono mai viste così tante offensive prima d'ora sempre parole sue in realtà si è fermato e nonostante nei telegiornali o almeno alcuni giornali italiani si è parlato di disfatta ucraina imminente cioè addirittura meno dei famosi tre giorni per conquistare Kiev in realtà l'avanzata russa verso Pokrovsk ha rallentato in questi ultimi tre giorni in modo anche piuttosto evidente e questo non tanto per il fatto che la pressione è diminuita ma per l'enorme sforzo condotto dalle forze armate ucraine fra l'altro ringrazio di cuore Maya Kursk 73 per il suo lavoro puntuale di aggiornamento sulla mappa mettendo insieme i dati che arrivano via Telegram e X dove per ognuna di queste icone sono collegati i video geolocalizzati vi passo i link sulla mappa se vi interessa e anche per supportarlo eventualmente allora nel video precedente in cui ho trattato letteralmente visto che qualcuno mi ha contestato il titolo ho trattato letteralmente la fine miserabile dei soldati russi perché letteralmente muoiono miseramente ho parlato di quei soldati che da un mesetto hanno preso l'abitudine di piazzare bandierine russe un poco ovunque almeno dove ritengono di aver conquistato una cascina o un gruppo di case isolato però ecco voglio farmi notare che alcune di queste bandierine in realtà sono sparite proprio perché l'azione ucraina ha contrattaccato in alcune aree in direzione di Pokrovsk questo contrattacco insomma c'è stato non si tratta solo di ritirata da parte ucraina ho detto contrattacco ed è avvenuto con le azioni dei Bradley che hanno fatto anche parecchi danni in questa scaria per esempio vediamo in azione il cosiddetto tritacarne né più né meno i video di droni ucraini che fanno fare una fine miserabile alla fanteria arrivano essenzialmente da qui così come anche nuovi record di lancio in alto di torrette, di carri armati russi T-60 e T-72 tutte le volte che questi carri finiscono sulle mine o vengono centrati dal tiro dell'altiglieria o dai droni insomma non stiamo assistendo ad una disfatta ucraina ma siamo soltanto a insomma lento avanzamento continuo che c'è da due anni a questa parte da parte russa ma insomma penso che stiamo assistendo al concetto perfettamente espresso da Lavrov in cui non importa quanti soldati russi moriranno per permettere a Putin di farsi la sua passeggiata in direzione di Kiev il problema è che non riescono a spianare questa strada e nel frattempo il grande zar se ne sta tranquillo a casa o visita la Mongolia che anziché arrestarlo come dovrebbe fare gli riserva addirittura il picchetto d'onore però questo è un altro discorso per tornare al fronte il vettore di avanzamento russo verso Pokrovsk è questo quindi gli ucraini continuano a infliggere enormi perdite alla Russia in questi giorni ma la città di Pokrovsk comunque è già stata evacuata e gli 8 km che separano la città dalle posizioni russe non la tengono al sicuro dai colpi dell'artiglieria che in queste ore piovono in continuazione sul centro abitato quindi è presumibile pensare che nei prossimi mesi molti mesi se i russi riusciranno ad arrivare in periferia si svilupperà quello che abbiamo visto già in passato presso Ardivka segnali preoccupanti poi arrivano dall'area di Vuledar dove i russi hanno occupato il piccolo villaggio di Preschivsk e stanno provando un'azione di accerchiamento poco a sud del paesino di Vodiane non riuscendo a sfondare direttamente stanno provando una manovra a Tenaglia e questa è la situazione a sud spostandoci invece molto più a nord nella zona centrale del fronte di invasione russo presso il villaggio di Pisciane è piuttosto evidente il tentativo di sfondamento russo supportato da azioni di bombardamento aereo e attacchi missilistici nelle retrovie ucraine ma giusto ieri tre mezzi d'assalto russi pieni di uomini ovviamente sono stati centrati in pieno geolocalizzazioni confermate se ci spostiamo poi decisamente più a nord nella famosa città di Vojtschask si segnala solo un attacco con artiglieria russo ieri sulle retrovie ucraine e la situazione qui rimane piuttosto invariata fra l'altro vi mostro questa iconcina qui questa qui è collegata ai nuovi droni incendiari ucraini non so se li avete visti in azione alcune loro immagini sono circolate addirittura sui telegiornali nazionali italiani i video di questi droni hanno iniziato a circolare a partire dal 18 agosto e sono dei normalissimi droni che hanno una bottiglia con all'interno una miscela incendiaria qualcuno adesso penso che mi correggerà non sono un chimico non sono un esperto di esplosivi ma si parla di magnesio e termite una miscela del tipo napalm l'unica cosa che posso dire a prescindere dalla composizione chimica è che ho visto l'effetto di questa miscela sui soldati russi e diciamo che ecco quando si dice che la guerra è un inferno lo è letteralmente è un'arma che insomma si sta rilevando piuttosto utile soprattutto per neutralizzare i soldati russi nascosti presso i filari di alberi dando fuoco letteralmente a tutta la fila e non quegli incendi non si spengono neanche con l'acqua letteralmente per contro questo drone non è un'arma invincibile perché per poter attaccare in questo modo deve volare basso e lento quindi in teoria basta anche un semplicissimo fucile per abbatterlo quindi non si tratta di un'arma innovativa o invincibile passiamo adesso ai progressi ucraini nella regione di Kursk come sappiamo intanto i russi sono riusciti a costruire una imponente linea di difesa di trincee lungo la strada di collegamento principale della regione provo a disegnarla sono diverse fortificazioni lungo questa linea qui in questi giorni fra le altre cose stanno cercando di costruire una linea aggiuntiva un po' più vicina alle posizioni ucraine da parte ucraina invece è piuttosto chiaro ad oggi che non hanno intenzione di forzare la mano in una avanzata con un attacco frontale verso la città di Kursk perché ovviamente non hanno abbastanza risorse e uomini per farlo e devono preoccuparsi soprattutto di difendere a sud in questo momento ma da quello che vediamo stanno comunque consolidando le opposizioni nella regione di Kursk due giorni fa hanno consolidato altro territorio in direzione est oltre Martinovka continuano poi le incursioni aeree e missilistiche da parte russa avete sentito immagino la notizia dei 51 morti nella città di Poltava e con oltre 200 feriti in realtà i telegiornali ho seguito anche io i telegiornali oggi parlano di 51 morti ma in realtà è stato colpito un centro di addestramento quindi presumibile pensare che siano 51 soldati ucraini caduti in questo attacco e questo è stato l'unico attacco che possiamo definire su un obiettivo militare da parte russa mentre in questi giorni continuano invece gli attacchi indiscriminati contro edifici civili Assumi Kharkiv Zaporizia Ternopil Lviv con un bilancio di vittime molto alto fra i civili e molti di questi purtroppo sono bambini questa è la strategia attuale del cremellino distruggere le infrastrutture elettriche dell'Ucraina gli ospedali colpire i civili indiscriminatamente il messaggio che si vuole trasmettere è molto chiaro il vostro paese sarà invivibile andatevene perché verrà raso al suolo e quindi a questo punto io mi chiedo dove sono finiti gli ucraini che chiedevano alla Russia di essere liberati a questo punto che cosa deve liberare la Russia niente delle macerie ora dato che l'Ucraina è immensa è fisicamente impossibile per loro proteggere efficacemente tutte le città da questi attacchi russi e per questo oggi le richieste di Kiev espingono sempre di più per ottenere le autorizzazioni a colpire le basi di lancio dei bombardieri e dei missili russi in questa direzione qualcosa si sta muovendo ho accennato nel video precedente al fatto che gli ucraini stanno realizzando i propri missili quindi potranno usarli come vorranno però ecco nelle forniture annunciate da parte americana ci sono stati delle dichiarazioni interessanti cioè nel pacchetto degli ultimi aiuti annunciato è stato inserito anche il missile AGM-158 JASSM questo missile da crociera a bassa osservabilità prodotto dalla Lockheed Martin è una versione un po' più economica dell'europeo Storm Shadow cioè in confronto al nostro missile Cruis è un pochino più cortodigittata e anche un pochino meno tecnologico come si può dire ma con i suoi 300 km di raggio comunque potrà essere molto utile ed è compatibile fra l'altro con gli stessi piloni con i quali oggi i suoi 24 ucraini già lanciano gli Storm Shadow europei ed è oltretutto è compatibile con gli F-16 come piloni d'attacco ora l'annuncio di questa fornitura è piuttosto importante non tanto per l'arma in sé voglio dire ma per il fatto che non avrebbe senso dare queste armi agli ucraini senza l'autorizzazione a colpire le basi militari e i siti di lancio missilistici russi quindi è molto possibile che le restrizioni a colpire il territorio russo che di oggi dipendono solo da una firma alla Casa Bianca potranno cambiare o rimosse del tutto notizia poi di poche ore fa l'Ucraina ha appena sospeso il comandante delle forze aeree droniche con il sospetto di spionaggio con la Russia la decisione è stata presa dopo una riunione del comitato di sicurezza ha scritto almeno lo stato maggiore in una dichiarazione su telegram martedì sera ha detto che il generale di punta Aleksandr Erzilski ha deciso che il servizio di sicurezza dell'Ucraina condurrà un'ulteriore ispezione speciale per quanto riguarda Roman Gladky capo di stato maggiore delle forze dei sistemi senza pilota e questo diciamo è importante perché un ruolo del genere oltre al fatto che era stato già discusso l'incarico da parte di Siski perché era un uomo di marina questo personaggio questo Gladky cioè non aveva nessuna esperienza per quanto riguarda la conduzione di una eventuale guerra aerea dei sistemi senza piloti però ecco la sostituzione non è una cosa negativa necessariamente e non è il solo anche il ministro degli affari esteri ucraino Dimitro Kuleba si è dimesso dal suo incarico in seguito all'annuncio fatto la settimana scorsa dal presidente Zelensky circa l'imminente rimpasto del governo la giustificazione di Zelensky è stato che è necessario trovare nuove energie a due anni e mezzo dall'inizio della guerra il che non è male voglio dire se non altro possiamo dire una cosa che almeno in Ucraina c'è un avvicendamento naturale e le promozioni o dimissioni non arrivano in questi modi fantasiosi che vi sto mostrando e per concludere la Russia come sappiamo è strana in questo momento storico in cui è esclusa da tutto il mondo civilizzato e tutti la considerano una nazione canaglia non è bello per loro essere tagliati fuori dal jet set e la popolarità internazionale così è strano cioè non è strano e non è insolito vedere sempre grandi trattamenti speciali a quei pochi VIP europei o americani che mettono piede in Russia insomma vengono trattati con tutti gli onori in questi convegni deserti e tutto il resto scorte tutto quanto cioè come se la Russia non fosse tipo in guerra con tutto l'Occidente letteralmente in questo momento storico o non direttamente almeno fra l'altro non so se ricordate la visita in Russia di Kylie West ma anche Steven Seagal un amicone di Putin e vabbè lo so ho tirato fuori due personaggi un pochino discutibili però ce ne sono tanti e va bene però anche la nostra Ornella Muti ha da sempre espresso simpatia per la Russia che poi tra l'altro non è neanche colpa sua perché ha origini russe alla fine la madre era russa quindi sono assolutamente contrario a un'eventuale gogna mediatica nei suoi confronti per cui Ornella sarebbe una simpatizzante della dittatura di Putin posso invece capire che come ha detto lei stessa le sue visite avvengano per affari suoi letteralmente affari in senso letterale Ornella poi ha partecipato con la figlia al festival della gioventù a Sochi o Sochi meglio dire il 7 marzo 2024 una conferenza meravigliosa che ve lo dico a fare piena di argomenti per i giovani e di prospettive interessanti per il futuro dei giovani della Russia in cui c'era anche Putin e oltre a Ornella e sua figlia c'era anche un certo Ciro Cerullo un ragazzo napoletano che ha avuto la fortuna di ricevere addirittura pacche sulle spalle da sua eminenza putiniana come dice l'avvocato dicendogli voglio mostrare all'Italia che sei un essere umano come tutti e contrastare la propaganda occidentale lo zar ha colto l'occasione per ribadire nuovamente il legame storico fra l'Italia e la Russia Ora ma certo caro il mio filosofo e artista di strada napoletano Putin è un essere umano come tutti alla fine e proprio per questo come tutti gli esseri umani potrebbe fare degli errori clamorosi o no potrebbe che ne so per esempio dire delle assurdità in ogni caso è vero che la Russia e l'Italia hanno avuto sempre un certo legame profondo non lo so di valori democrazia giustizia e pace non credo non credo che siamo proprio due culture affini e simili e più ci penso più mi rendo conto che l'Italia con la Russia non ha proprio niente in comune tipo forse solo una cosa il ventennio ma come dire io non so voi ma se fossi stato in quella sala per un convegno giovanile da italiano sentire un Vladimiro qualsiasi dire che i nostri paesi sono simili anche no mi sarei un poco sentito profondamente offeso specialmente se parliamo di valori civili cultura e democrazia anzi penso proprio che siamo agli antipodi con la Russia che non è una nazione amica in questo momento almeno non lo è più di quanto lo è la Corea del Nord e se in politica bisogna fare buon viso a cattivo gioco con un pazzo scatenato che minaccia la guerra nucleare ogni due per tre non significa poi che bisogna elogiarlo e accettare tutte le idiozie che dice e questo è quanto ora per concludere vi posso vi faccio vedere questo bellissimo post di Andrea Montani che dice ebbe Marco che te lo dico a fa resti il miglior analista di questo conflitto senza se e senza ma e poi diciamocelo questa favola dell'accerchiamento della Russia da parte della Nato se non fosse tragica farebbe sorridere anche i russofili più convinti è vero caro Andrea ma soprattutto Marco chi un abbraccio a tutti alla prossima